Mi chiamo Riccardo Nuti e sono il proprietario dell'azienda Fattoria Montecchio di San Donato in Poggio. Il legame per me col territorio della Fattoria di Montecchio è importantissimo. Io sono stato cresciuto all'interno dell'azienda e tutte le mattine quando con la mia macchina arrivo riesco a rivedere tutta la mia vita sostanzialmente, perché a quei vigneti, a quegli olivi io sono sempre estremamente legato. Per me quando qualcuno assaggia un vino di Fattoria Montecchio deve provare una piccola emozione. Quando tengo una mia bottiglia in mano è come avere un piccolo tesoro da proteggere. Per me la cosa più bella che caratterizza il territorio del Pianti Classico è l'unione che nei secoli si è fatta tra il lavoro dell'uomo e il lavoro della natura. Negli ultimi anni le sfide più importanti sono state quelle per poter migliorare i nostri vini e portare maggiore qualità all'interno dei bicchieri dei nostri clienti.